Il saccoletto Leviti 01 è un prodotto dedicato a chi durante la propria attività ha esigenza di pesi e ingombri minimi. L'imbottitura High Thermal Fiber Compact garantisce un'elevata capacità termica unita ad un'ottima comprimibilità e morbidezza. La parte inferiore ha una forma 3D completamente apribile con cerniera, ciò permette di aumentare il comfort e la reazione e di disponibile con cerniera destra e sinistra, ciò permette di poter attaccare insieme due sacchiletto. Per ridurre la dispersione di calore dall'interno del saccoletto le cuciture esterne ed interne sono sfalsate. Per ridurre la dispersione di calore la chiusura intorno al collo e la cerniera di chiusura sono dotate al loro interno di imbottitura addizionale.